Anche se in Toscana ha fatto il suo ingresso all'interno della fondazione ITS Energia e Ambiente, l'Istituto Tecnico Superiore, che sta diventando un appunto di riferimento a livello regionale per la formazione di tecnici in campo ambientale. Gli ITS di fatto rappresentano il nuovo canale di istruzione superiore parallelo ai percorsi universitari nati con l'obiettivo di dar vita ad un'autentica integrazione tra istruzione, formazione e lavoro. Un'altra azienda che contribuirà a formare, a condividere progetti formativi che daranno vita a corsi sempre più specializzanti, che comporteranno anche notevoli esperienze laboratoriali dei ragazzi che potranno anche svolgere stage e tirocini dentro le aziende che hanno contribuito a progettare i loro corsi, garantendo così un altissimo livello di occupabilità di questi studenti. Sei Toscana metterà a disposizione le proprie competenze e professionalità, anche partecipando attivamente a una serie di attività organizzate dalla fondazione. Il gestore avrà infatti un ruolo all'interno dei corsi dedicati all'economia circolare, fornendo il suo apporto su temi come raccolta e valorizzazione dei rifiuti. Il mondo dei rifiuti sta vivendo una evoluzione costante e molto intensa, anche da un punto di vista tecnologico. Questo richiederà nel prossimo futuro nuove professionalità e allora il mondo delle imprese, in particolare nel nostro caso il gestore unico, avrà necessità di queste figure che allo Stato sono ancora non così presenti nel mondo dell'offerta di lavoro e quindi contribuire a formare i giovani operatori, i giovani collaboratori di un soggetto come Sei Toscana.